Termine in prefettura il lungo e intenso giro di consultazioni sul territorio voluto dal commissario straordinario per l'emergenza Xilella, Giuseppe Silletti. Il batterio che sta uccidendo gli ulivi sta viaggiando ad una velocità inaspettata anche per gli esperti e gli ultimi focolai scoperti a Surbo, Cavallino, Caprarica, fino a quello oltre i confini provinciali, a Oria, impongono di ridisegnare le linee di difesa. Bisogna spostare la fascia di protezione, quindi sia quella di cuscinetto che la zona protezione superiore. Si sta decidendo se spostare l'intera fascia oppure fare una zona tampone intorno a quella isolato di infezione, quindi ridurre i danni in questo senso. L'apporto dei sindaci è fondamentale perché ognuno a modo suo sta monitorando la situazione comune per comune, tracciando una mappa della malattia e proponendo soluzioni. Il sindaco Gianni Stefano ha messo a disposizione il protocollo che si sta usando nei terreni di Casarano, ma l'ideale, ha detto, sarebbe adottare un registro di interventi uguale per tutti. Col diretti intanto sottolinea la gravità della situazione che peggiora vista d'occhio giorno per giorno. Da un giorno all'altro campagne tenute benissimo, va il giorno prima, gli alberi sono perfetti, il giorno dopo si trovano delle branche completamente essiccate. Alberi monumentali, oliveti tenuti molto bene, quindi non c'è alcun dubbio. Probabilmente sono gli esiti di un'infezione sicuramente avvenuta mesi fa, perché adesso si sta manifestando in maniera veramente devastante per gli alberi e per noi agricoltori. Non vogliamo avere nessun dubbio nei confronti dei nostri figli di non aver fatto il possibile. Stiamo buttando un sacco di soldi, però non è questo il problema. È il problema che la malattia si manifesta in maniera devastante. A fare da sfondo all'incontro le foto degli olivi più belli scattate dal prefetto Giuliana Perrotta durante le sue lunghe passeggiate in bicicletta per il Salento. La collaborazione dei sindaci serve. Il commissario chiede loro l'aiuto necessario a debellare il flagello Xilella, anche perché, ha detto, la comunità europea ci sta addosso. Adoperarsi anche loro a dare una mano al commissario, all'istituzione, a che questo flagello venga perlomeno ridimensionato, perché la comunità europea ci sta addosso con possibili procedi di infrazione, con atteggiamenti restrittivi nelle attività di commercializzazione dei prodotti che possono essere ospiti del batterio. Diciamo che è drammaticamente bello il risultato.